A proposito di infrastrutture, il sovrintendente Pessino ha detto che non ha mai dato l'ok alla tramvia, quella linea sulla quale ci sono già delle date. Non è una novità perché stiamo facendo l'iter con la conferenza dei servizi, quindi non vedo dov'è la notizia. Quindi è normale dare delle date di inizio-fine lavori senza ancora avere l'ok della sovrintendenza? Noi quando diamo date lo facciamo sapendo che ci sono tutta una serie di passaggi amministrativi che vanno fatti, ma questo è il nostro obiettivo. La conferenza dei servizi potrebbe cambiare qualcosa? Io non credo che la conferenza dei servizi prenda decisioni tali da cambiare le tempistiche della realizzazione delle tramvie. Pessina in realtà ha anche detto di non aver mai ricevuto un progetto definitivo né sulla linea della tramvia né per quanto riguarda lo stadio, quindi su cosa si è basato il sindaco per avanzare le sue proposte. Pessina ha fatto anche delle dichiarazioni sul battimento o meno delle curve del Franchi.